ti metto in evidenza il commento perché la penso esattamente come te non so quanto abbia bisogno di diciamo presentazione il caso perché è diventato famosissimo ma si riassume così perché Diana Resinovich scompare appunto il 14 dicembre del 2021 e viene trovata poi senza vita tre settimane dopo più o meno quindi che cosa era successo ovviamente la procura per quelli che erano gli elementi sosteneva l'ipotesi del suicidio di questa donna in che modalità viene ritrovata riassumendo in un boschetto lì a Trieste in due sacchi cioè in dei sacchi che la coprivano totalmente e dalle prime atroposie non si riscontravano elementi o atti lesivi che avessero potuto far sostenere poi l'ipotesi dell'omicidio ma adesso lo scenario è cambiato perché ci siamo avviati in una nuova fase di indagini per omicidio a carico di ignoti al momento e quindi stasera un attimo riparliamo per capire quali sono i punti che saranno diciamo sviscerati, analizzati finalmente per lasciare questo caso con delle risposte o per dire tra qualche anno è stato fatto tutto il possibile perché quello che si diceva di questo caso è che non erano state fatte le dovute indagini non avevano attenzione ai soggetti giusti non avevano profondi tutta la vicenda ad oggi penso da quello che è emerso con questi famosi 25 punti chiave non ci sarà più spazio per le ombre poi una cosa è avere delle risposte poi diciamo che questa richiesta di allora tutti ci aspettavamo che le indagini proseguissero perché effettivamente c'erano degli aspetti della vicenda che meritavano degli approfondimenti tuttavia diciamo che il giudice ci ha scioccati tutti quanti perché è andato al di là addirittura ha fatto una lista di 25 elementi da approfondire la la situazione è un po' diciamo che fa sorridere che comunque il giudice nella sua diciamo di esamina ci ha tenuto comunque a dire che la procura ha fatto un lavoro incomiabile che è vicina a tutte le critiche che sono state volte al PM e tutto quanto però però fondamentalmente confermano che non ci hanno capito niente quindi un po' far ridere però insomma non so quanto l'abbia presa bene il PM ha ordinato nuove indagini con 25 punti da approfondire che sono tantissimi ragazzi e come se vi avesse detto fino ad oggi non avete fatto un bel niente complimenti la cosa che credo abbia sconvolto tutti è che non esce bene nessuno in questa storia perché oltre a allargare il campo delle indagini anche al figlio di Visentin di Serpin aspetta Visentin è il marito di Visentin hanno detto beh adesso capiamo Claudio che cosa fa perché tra i 25 punti di indagini c'è anche quello di sentire questo signore che per quanto abbia deciso di raccontare qualunque cosa di Liliana a tutti i giornalisti che l'hanno intervistato anche i non giornalisti anche a chiunque insomma ha dimenticato dei particolari non da poco diciamo di questa vicenda come di diciamo evidenziare dei luoghi in cui a quanto pare lui si appartava con Liliana e questo insomma sicuramente non è molto molto corretto l'ipote diciamo la prima cosa e questa lascio la parola a Giovanni che ve lo spiega lei e lui scusatemi leggere i commenti adesso ci faranno i meme su questo Giovanni ti chiedo perdono no figure adesso tutta la storia è che la l'autopsia ecco l'autopsia a quanto pare andrebbe forse rifatta sì perché abbiano chiesto di aspettare prima di decidere insomma la resumazione era l'extrema razio non vedo non credo che si possa farne a meno per quello che l'esame chiesto esatto hanno fatto una premessa perché dicono la resumazione non è che la fanno così a priori adesso valutano effettivamente se farlo cioè se ne vale la pena e che tipo di risposte porrà dare confrontando un attimino i dati che sono emersi dalla prima autopsia perché quel che mi è sembrato di capire è che manchi poi effettivamente un esame di tipo proprio istologico per il congelamento ci pare di aver capito quasi che lo abbiano fatto ad occhio questo esame per il tessuto e che quindi manchi proprio un esame in laboratorio che vada a dimostrare il congelamento o la mancanza di questo e quindi questo potrebbe essere uno degli elementi per la risumazione poi si parla di queste chimosi di queste lesioni che non erano state riscontrate nella prima autopsia perché non ce n'erano non ce n'erano buonanotte a chi va non ce n'erano quindi se si riesce un attimino a rinquadrare questa situazione ci sarà anche una consulenza medico legale da approfondire questi aspetti perché ripeto se partiamo da una consulenza tecnica che comunque va a riscontrare un quadro di tipo lesivo e quindi coinvolgimento di terzi allora alt aspettate un attimo che quindi lo scenario del suicidio viene un pochino meno perché se già c'è una lesione quindi una percossa e botte quello che volete al capo già capite che è veloce e repentino il cambio di direzione l'ipotesi omicidiaria prende poi piede perché anche se ci sono una serie di aspetti davvero molto molto strani che era proprio lo stato di conservazione del corpo e secondo me quello poi sarà insuperabile perché su quei dati non ci si può ritornare più sapete che i fenomeni abiotici vengono rilevati appena trovi il cadavere non è che li puoi rifare dopo c'è no Rigo Largor e Livor Mortis qui ti evidenzio una domanda che così ti do un modo di rispondere immediatamente che era molto interessante l'abbiamo visto tutti esatto quello che stavo dicendo in questo momento è che c'è certezza su questi dati esatto purtroppo è impossibile diciamo sbagliare questi dati sui fenomeni tanatologici no perché sono l'ABC proprio del medico legale se avessero sbagliato poi anche quelli però dubito che siano sbagliati tanto è vero che io l'unico buco che ho in questa storia è proprio il tempo perché se scomparsi il 14 e viene ritrovata poi il 5 gennaio quindi tre settimane dopo un corpo conservato in quel modo veramente mi sembra strano quindi o è stato congelato e comunque il congelamento non è che blocca i processi del tutto può rallentarli in una maniera molto marcata ma non li blocca ok però i medici legali sono certi che quei fenomeni tanatologici siano avvenuti in maniera naturale che quindi il suo corpo sia rimasto nel luogo di ritrovamento dalla morte fino appunto al ritrovamento che secondo il mio punto di vista non siamo oltre le 60 ore ok e quindi secondo me l'autopsia ha senso di riesistere se mi consentite il termine se c'è modo di dare risposte ad altro tipo di domande perché andare a riguardare i stessi tessuti e le stesse cose no quindi se veramente se questa equimosi di cui si è discusso di cui si è parlato e non ho capito da quale dato però questo mi è mancato perché io ho capito solamente che si è visto tipo forse in foto questa cosa ma non c'è poi un riscontro e ovviamente si possono fare degli accertamenti sui tessuti sulle cose per vedere se si tratta di una botta ricevuta o meno quindi questo potrebbe dare una risposta poi allora diciamo che il medico legale lo è escluso proprio dallo stato di conservazione dal fatto che comunque lui scrive nell'autopsia perché glielo chiedono a un certo punto della sua consulenza visto che viene fuori questa cosa perché l'abbiamo detto tante volte ricordiamolo quando viene ritrovato il cadavere di Liliana per il modo in cui è stato ritrovato sia per lo stato di conservazione ma anche dagli indumenti politi e tutto il resto subito i giornalisti dicono che era stata diciamo era stata lì da due giorni che era morta da poco poi evidentemente questo dato ha un po' diciamo alterato tutti e quindi questa informazione dopo 24 ore viene bypassata però chi è stato attento nella lettura di questo caso quando sono usciti diciamo i risultati della della perizia non ci siamo stranizzati perché era una cosa che era già stata detta e quando insomma è uscito questo dato e quindi comunque hanno cominciato a fare hanno cominciato a fare praticamente delle come si dice mi fate perdere le parole non devo guardare i commenti in chat quando hanno iniziato ad uscire le prime indiscrezioni sui dati autoptici le famiglie hanno subito detto no però sicuramente magari è stata congelata quindi il PM chiede il giudice chiede al medico legale di verificare questa cosa e il medico legale lo esclude nella sua perizia anche senza dire che insomma quali esami ha fatto è come se l'avesse escluso ad occhio ed effettivamente gran parte delle persone tra cui anche la dottoressa Bruzzone confermano il fatto che ad occhio si vede se un corpo è stato congelato però a quanto pare ed è lì che il GIP va oltre esiste un modo specifico per verificare se effettivamente il corpo è stato congelato o no e ce lo spiega Giovanni esistono degli esami istologici in pratica voi sapete che il contenuto delle cellule è acquoso quindi in pratica quando l'acqua assume la forma di ghiaccio cristallizza quindi anche le cellule diciamo collassano un po' dalla loro struttura originale a ciò è visibile oltre a comunque innescare una serie di processi biochimici che fanno ritrovare anche determinate sostanze dentro poi nel dettaglio ma questo va fatto no ad occhio cioè diciamo si fa il laboratorio per accertare qualcuno poi chiede appunto sulla temperatura del corpo non è stata rilevata quando quello io l'avrei fatto a priori però potenzialmente anche quando hai un'idea perché gli altri fenomeni abiotici ti dicono che si è superato un certo range tu la temperatura non la rilevi più per quale motivo perché la temperatura al di là delle condizioni ambientali perché siamo all'esterno era a gennaio siamo a tre est faceva freddissimo quindi il decremento della temperatura è veloce ed ha un limite nel senso che si abbassa tipo di un grado ad una certa temperatura fino a un certo punto poi di mezzo grado man mano che passa più tempo perché il corpo si raffredda inizialmente si raffredda più velocemente poi dopo si raffredda di meno al passare del tempo quando poi ovviamente hai altri fenomeni abiotici che sono la rigidità cadaverica e la comparsa tipo di alcune ipostasi già sai più o meno che hai superato il range temporale di limite inferiore del decremento di temperatura quindi è ragionevole non prenderla più cioè non lo fai più perché non ti serve cioè è un dato che è arrivato al suo limite inferiore di taratura quindi questo è il concetto uno lo fa per dire ah così hai fatto tutto ma non è un elemento mancante nel senso non ci avrebbe detto sicuramente nulla di più fatto sa che non si può tornare più indietro io l'avrei fatto a priori ripeto per avere una completezza ma è quasi inutile cioè quasi lo fai ti dicono perché l'hai fatto se hai dei fenomeni che ti mettono un range temporale dettagliato perché la prima volta che si approccia a questa materia vi dico che nella morte si parla sempre di range e mai di minuto orario fisso è sempre un arco temporale che ha un inizio o una fine Giovanni rispondi a questa domanda che lo stanno chiedendo in tanti che cosa aspetta un minuto perché si parla sempre di congelamento e non rifrigerazione perché rifrigerazione poteva rallentare il processo ma non bloccarlo e ragazzi 14 giorni per Enrico 14 anzi un mese quanti sono? 20-21 giorni mi sa quindi insomma la refrigerazione avrebbe rallentato ma non bloccato quindi si parla proprio di congelamento per congelare appunto lo stato del cadavere quindi la cosa poi singolare è lì e anche proprio la temperatura già del posto no? se è vero che faceva freddissimo però non erano temperature da permettere un corpo di congelarsi l'hanno spiegato tante volte quindi non si può e il fatto è che non avrebbe però se non è anche il congelamento da quello che ho studiato non blocca proprio totalmente totalmente tutto il problema ragazzi uno però è anche proprio lo stato di conservazione dei tessuti allora la trasformazione cadaverica che comincia a avvenire dopo questi fenomeni tanatologici ha delle fasi ok? quindi c'è una putrefazione che è un processo di trasformazione del corpo quindi si comincia proprio a cambiare il colore della pelle perché avvengono dei processi che partono dall'intestino perché ci sono i batteri quindi si diventa più o meno verdasti e bla 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 poi c'è una frase di scioglimento tipo dei liquidi il collasso di tutti i tessuti no? la colliquativa e lì non siamo in quel range quindi io vi dico se sono passate ventuno settimane come ha fatto il corpo di Leliana a resistere al processo di trasformazione cadaverica è impossibile arrivare a ventuno giorni e poi iniziare il processo vuol dire che o è morta sessanta ore prima più o meno dico sessanta ore perché nella mia testa il calcolo è sessanta ore non meno non di più sessanta ore da ritrovamento sessanta ore prima del ritrovamento o effettivamente è stato bloccata la trasformazione cadaverica con un processo di congelamento che ripeto nell'autopsia facendo attenzione a meno risulta che sia stato fatto questo test e quindi perciò penso che vogliono rifarlo per dare una base proprio chimica di questo processo e una spiegazione per tagliare la testa al doro e dire ok effettivamente perché dai tessuti si può vedere anche adesso a distanza di tempo se effettivamente c'è stato un processo del genere altrimenti resta il mistero dei misteri cioè questa signora del 14 dicembre che scomparsa fino al momento in cui per ora è un suicidio si sarebbe suicidato dove è stata con chi è stata e tra 25 punti adesso mi ricollego subito un altro punto che magari non c'entra nulla ma verrà ganciato c'è sta famosa chiave con sto portachiavi a forma di cuore che apre questa chiave cioè non è identificata una porta per il momento di questa chiave tu hai sentito questa cosa della chiave cioè in pratica questa chiave è una chiave che dovrebbe aprire un qualcosa e nessuno sa che cosa apre che cosa è quella chiave magari può essere il posto dove è stata per tutti questi giorni perché ragazzi se vedete non c'è la dimostrazione del del congelamento ma non si passa di lì cioè Liliana fino al 3 gennaio almeno era viva dove non si sa ma io non mi sentirei di dire che è morta il giorno della scomparsa ovvero i 14 è impossibile con quel cadavere in quello stato di conservazione con quei fenomeni in quel modo c'era una domanda non ho letto non so si capisce bene insomma lui ha parlato di varie cose però stiamo parlando di sterpin sì di sterpin però insomma ragazzi ve lo dico a denti stretti c'è proprio scritto nella richiesta del GIP di sentirlo e chiedere perché non ha detto tutte queste cose perché c'erano questi luoghi in cui lui si appartava con Liliana e fondamentalmente potevano essere luoghi in cui questa donna si è rifoggiata in questi giorni in cui si è sparita ecco io comunque protendo per quello che scriveva poco fa Guglielma per quello l'ho messo in evidenza anche io penso che non ci sia altro le nuove indagini possono spostare fino a un certo punto nel senso che sicuramente per quanto abbiano perso tanto tempo si siano presi tanto tempo qualcuno lo scriveva poco fa il fatto che non siano state prese i dati delle celle telefoniche dei luoghi in cui è stata vista l'ultima volta ed è ritrovamento sembra una cosa difficile anche a crederlo scandalosa così come che non siano stati analizzati tutti gli account tutti i profili di Liliana in questo insomma dopo un anno e mezzo ci si aspettava che almeno questi dati fossero stati cristallizzati invece non è così quindi quelle indagini secondo me vanno approfondite senza ombra di dubbio perché per quanto anche secondo me non c'è un vero reato dietro quindi nessuno l'ha tenuta sequestrata come ha scritto la procura nessuno ha diciamo inscenato l'omicidio però è anche giusto che una persona si sparisce tre settimane noi non possiamo sapere se effettivamente qualcuno l'ha indotto a farlo o se dietro c'erano altre motivazioni che possono anche da sole costituire un reato quindi non indagare sulla vita di questa persona a 360 gradi non è corretto ed è giusto che si faccia perché poi anche in questo caso domani si potrà dire che ne so il figlio di il figlio di Vicentin di cui molti uccellini hanno chiacchierato io sono contenta anche se lui non sarà diciamo nello stesso avviso che si indaghi anche su di lui perché se no domani tutta la vita questo si sentirà dire che probabilmente è stato lui a fare sparire questa donna cosa che io non credo assolutamente quindi visto che c'è tutta questa attenzione nonostante probabilmente non c'è alcun reato dietro credo che sia l'uopo oggi lo dico accertare queste cose che andavano accertate anche prima devo dirvi che però riguardo alla storia medico legale e anche alle varie diciamo fratture micro lesioni che sono state riscontrate essendo che quelle non hanno causato la morte ed essendo che comunque ragazzi io credo che un corpo congelato e decongelato vabbè ma non ci sono diciamo segni traumatici di quel tipo lì se ne saresti accorto io sinceramente su questo dato non sono d'accordo credo che un po' si sia prestato il fianco all'onda mediatica che si è ma diciamo di dati del genere traumi cose non è che sono stati riscontrati non c'erano diciamo traumi di quel tipo si era parlato di questa cosa tipo sul volto sul muso ma da quel che ho capito dalle foto poi qui per essere chiaro forse sono stato poco chiaro prima nel senso le prove scientifiche più o meno collocano il range mortale due giorni prima del ritrovamento ok e non c'è discrepanza e lo stato del corpo cioè l'autopsia è lineare cioè l'autopsia dice è morta due giorni prima perché i dati mi dicono che è morta due giorni prima e lo stato di conservazione del corpo a mio modo di vedere è giusto con quello che hanno scritto i primi medici cioè io concordo con quello che hanno scritto dice lo stato di conservazione è coerente con quello che c'è nella prima autopsia quindi veramente la seconda se può essere utile e ci svelano questa cosa del congelamento e riescono a darci una risposta Gesù potrebbe essere vero perché poi potrebbe spiegare effettivamente lo stato di conservazione però altri tipi di di cose secondo me non vengono fuori tipo quadri lesivi percosse soffocamenti vari e quant'altro no quindi il corpo è rimasto lì e non ci sono dati che ci dicono diversamente vi spiego anche perché nella scorsa live sono entrata anche un po' più in dettaglio sull'analisi del terreno che cos'è questo dettaglio ascoltate benissimo perché per me questo è il punto di non ritorno Monica un attimo che spiego questa cosa che è delicatissima sì 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 vai vai quando hanno fatto l'analisi delle scarpe hanno analizzato il contenuto del terreno che è un contenuto particolare perché c'è una percentuale di varie rocce minerali e quant'altro ed è caratteristica ok di tanti parchi di tante zone di Trieste ma proprio specifica del suolo che ha calpessato per arrivare in quella zona d'ombra del boschetto c'è stato analizzato il terreno calpessabile per arrivare fino al punto in cui poi è stata trovata col sentiero che porta in quel posto che so pochi metri quindi il terreno era proprio quello lì quindi lei ci ha camminato con i suoi piedi in quel terreno lì non è che è stata uccisa poi altrove impacchettata e gettata lì perché se così fosse stata tu non ci arrivi con i piedi sporchi così cioè ci arrivi perché sei stata portata quindi se sei già impacchettata non ti sporchi le scarpe e la pressione del calpessio non ti fa entrare quel tipo di terreno lì quindi secondo me questo è un punto di non ritorno ci è arrivata con i suoi piedi perché oltre a questo tipo di analisi che è chimico c'è anche un tipo di analisi fisico se vogliamo dire che è proprio la pressione esercitata quindi tu per avere quel tipo di altezza del terreno che ti arriva a un certo punto vuol dire che le scarpe le hai indossate quindi dobbiamo pensare che le scarpe poi siano state indossate da qualcun altro che ha mimato il calpessio le ha tolte le abbia inserite di nuovo a Liviana e no perché poi veramente sarebbe un lasciare tracce continue e penso che sia anche abbastanza ingegnoso da fare c'è uno che veramente ha architettato il tutto ovvero ucciderla senza lasciare traccia perché ripeto il dato incontrovertibile è che non ci sono segni di un'azione lesiva cioè perciò dico eh non è un uccidio ma le parte perché come come l'hanno uccisa pure quando dicono ah boh c'è la teoria gli schiaffi e pugni sì l'ho detto l'altra volta come si fa a morire di schiaffi e pugni voglio dire cioè pure se tu becchi delle percorse forti ci deve essere un trauma se hai preso schiaffi e pugni ma tali da non compromettere la scatola cranica le cossole tutto quello che volete e quindi non è identificabile vuol dire che non ci muori con quel tipo di cioè di botte cioè nessuno è morto per uno schiaffo no e tantomeno se cadi batti la testa e muori vai ma scusami no figurati no non ci sono tracce né di tranquillanti né di altri stufefacenti né tantomeno del famoso farmaco di cui hanno ritrovato diciamo perché qualcuno poco fa chiedeva il bracciale il farmaco che sono stati ritrovati adesso sembra un'operazione di un mitomane più che altro perché effettivamente se fosse stata lì su il bracciale credo che già ne avremmo avuto diciamo conferma e detto ciò qualcuno chiedeva allora la colazione è identica sì è panettone ed era Natale quindi sapete quanta gente fa la colazione a Natale col panettone tanti il problema qual è che sicuramente qualcuno chiedeva dei vestiti lei da qualche parte è stata quindi comunque si è nutrita è stata quindi c'è qualcuno il sequestro il sequestro non è non si sposa con questa teoria perché se tu vieni sequestrata contro il tuo volere cosa mangi cioè ti mangi ti mangi il panettone ti prendi il ultimitaminico anche se te lo danno loro penso che sei talmente disperato che non mangi il panettone qualcuno parlava anche di segni di costrizione insomma non era sicuramente l'aspetto di una persona che poteva essere sequestrata sì Guilherme anche io ho pensato questo anche se questo insomma non è un segreto confessionale credo che se un prete facesse una cosa del genere non se la vedrebbe proprio bene cioè nel senso non credo che possa essere diciamo tenuto al segreto cioè l'han tenuta lì però io credo che invece sia qualcuno che la conosce e che l'abbia aiutata poi non perché volesse diciamo che si ammazzasse credo che lei una notte si sia alzata si è uscita e si sia andata ad uccidere tutto qua però magari qualcuno l'ha aiutata non sapendo insomma come uscire da questa situazione io ho sempre pensato che quel giorno un litigio col marito ci sia stata e che lei se ne sia andata per allontanarsi da entrambi quindi qualcuno l'abbia accolta per questo motivo magari anche lasciandogli le chiavi di casa poi però le cose sono peggiorate perché veramente se ne sono dette di ogni e quindi sta povera donna ha detto ma guardate voi vendete sembra un po' una novella no? molto pirandelliana io vi guardo dalla tv mentre fingo che so sparita e vedete voi come vi comportate non se ne salva uno in questa storia ragazzi uno non si salva non che siano delle brutte persone ma il modo in cui si sono comportati cioè se io fossi stata Liliana esatto da pirandella a boccaccio un po' lì ecco quindi che poi se lei ha visto tutto questo da spettatore che poi un giorno si sia alzata e abbia deciso di farla finita io questo è stato sempre il mio pensiero dall'inizio sì ragazzi è una cosa stupida però mi sono fatto anche io la stessa domanda avevo parlato un po' con degli psicologi tendenzialmente per non farsi vedere per occultarsi nei sacchi scuri qualcuno dice no per preservarsi spirito di autodifesa no uno che si sta togliendo la vita questo spirito di autodifesa non ce l'ha più perché ma per mimetizzarsi meglio nella boscaia nel terreno anche se ultimamente stavo leggendo dei commenti perché c'è Covalero giusto si chiama se ne faccio errori che mi pare abbia ipotizzato e abbia detto delle frasi del tipo ah poi la getteranno come un sacco della spazzatura in un bosco giusto mi pare di aver capito che siano state fatte le esternazioni del genere certo che sono parecchio suggestive vedendo che poi Liliana è stata provata proprio in questo modo successo strane no come cosa ma ragazzi hanno però io sono del team suicidio per il momento nel senso che non ho elementi per pensare il contrario e penso che il caso sia difficilissimo però ci siamo già ritornati su una live vi invito a riascoltarla perché ho spiegato anche perché protendo per queste ipotesi perché il contesto criminologico psicologico per questa donna nel togliersi la vita se non è cersa tutto e le avete viste i due personaggi di questa storia cioè su due maruzzo una di qua un altro di là voglio dire una donna che sembrerebbe per quello che ci hanno presentato così garbata così calma così riservata così riservata no in un contesto con quei due fuochi che sono Visentin e Serpin io non avrei avuto dubbi che una pressione del genere mi abbia spinto un gesto così e la chiudo qui però è una situazione della quale non ci esse facilmente e potresti vedere come un'unica via d'uscita la morte per chi dirà sereno è difficile da accettare ma è un movente concreto non è una stupidata perché non tutti reagiamo allo stesso modo e per qualcuno è insormontabile una cosa del genere dopo magari una vita insieme fatta di determinate cose esci da qualcosa che non ti piace per forse andarsi a gettare in un'altra che è ancora peggio che il comportamento di Serpin comunque era di quelli ossessivi perché mi pare di ricordare già dai primi minuti della scomparsa già la stava tempestando di telefonate giù di lì una cosa del genere scusatemi ragazzi io vedo che fate un po' allora poco fa la diva del tubo che avete visto non era la diva era sempre un account clonato da quei quattro imbecilli che vengono qui a trollare e quindi presumo visto che ci hanno lasciato dei messaggi subliminali su quello che si può dire quello che non si può dire evitate di scrivere parola suicidio anche se insomma figuriamoci per evitare insomma che ci bannino il canale quindi se riuscite grazie dico non credo che ci bannino il canale per quello però insomma qui tutto va 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 strano insomma mi sembra una precauzione assurda ma avrebbe parlato tante volte quindi non è mai successo nulla se ci bannano è perché segnalano a dispetto queste quindi diciamo che bel divertimento ma poco fa la diva non era lei capito le ho scritto e non era lei quindi insomma erano entrati in tre ci avevano accerchiato insomma la diva diceva delle cose e loro dicevano ah mi sono bannate mi sembrava un po' proprio cretini comunque no tanto tempo da perdere ragazzi comunque tornate andiamo avanti no era per spiegare non lo so infatti però siccome vedete questa diciamo attenzione particolare al 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 vostro diciamo a quello che dite e infatti Merita non l'ha neanche capito non scrive la parola suicidio in continuo anche se stiamo parlando di questo ragazzi ma voi siete bravi voi siete bravi perché poi è inutile che che fanno che dicono che non è che c'è bisogno vi spieghiamo nelle cose cioè le sapete leggere siete degli appassionati di crime innanzitutto quelli già di vostro una sorta di intuito l'avete visto poi avete visto che non ci inventiamo le cavolate cerchiamo di evitare io quello che dovevo dire l'ho detto in passato il messaggio l'ho mandato se non ci cagano è meglio quindi noi siamo così ci dedicheremo al crime che piacciono se la questione diventa un bordelone ci facciamo la diretta quindi va bene così diciamo abbiamo altre cose più interessanti allora poi magari qualcuno ci dà qualche volta qualche suggerimento in privato di quello che possiamo dire o non dire sul twitch ma da un anno e più a questa parte non c'è mai successo nulla scrivendo parlando di alcuni temi quindi sì sicuramente meglio il crime il crime quello che poi il resto sarà fatto da tutta l'indagine anche questa indagine sul dna finalmente un po' più specifica sui soggetti che hanno stati già attenzionati quindi hanno preso il dna vabbè sebastiano covalema mi confondo col cognome dell'amico Fulvio Covalero allora voglio rispondere tanto a questa domanda che tu no era l'altra sopra oggi non ci vedo no non credo che non è tra gli spunti d'indagine e non credo che sia stato evidenziato questo aspetto aspetta però qualcosa sui soldi che avevano in casa verrà fatto nei 25 punti non so se si riferisce sì però non giri non giri particolari no perché non ho capito che intende sulla posta dei soldi non lo so però qualcosa sì sui soldi tipo che c'erano e circolavano in casa sì anche sulla fede inunziale faranno eh la fede è l'unico aspetto ragazzi questo ve lo voglio raccontare quando abbiamo visto un po' il caso perché non ho idea sono sempre stata diciamo pro suicidio cioè nel senso che ho sempre pensato questo c'è stato un fatto nelle foto che mi ha lasciato molto molto perplessa la fede ecco quello è l'unico caso insomma molto strano perché lei dalla foto ha il segno della fede come se la fede se la fosse tolta ma praticamente veramente poco prima di morire ma poco poco prima perché il segno è molto evidente quindi poco poco prima questo dato sicuramente non collima con la morte del 3 gennaio giù di lì ma collimerebbe con la morte del 14 dicembre ora c'è da dire una cosa che comunque non sappiamo se quello è il segno di una fede o di un altro anello la fede era a casa infatti non poteva essere la sua fede per forza perché era stata trovata subito e quindi non poteva essere quella aveva la depressione si chiama depressione il solco che viene solitamente se tu muori poco dopo averlo tolto e c'è la depressione questo segno qui è come se si scavasse un po' di più non resta quel solco lì e non si rimargina più cioè non si rigonfia perché dall'asso di rebb in cui lo togli fino a che muori è breve quindi non si rigonfia più quella parte lì di pelle 21 settimane mi sembrano un po' tante per io anche porto sempre gli anelli ma se lo tolgo e ma che dura 10 minuti quel segno voglio dire non è che dura durare 21 giorni è un po' tanto quindi infatti Monica di questa cosa ne discutevamo perché è un dato che in realtà si sposa meglio con la teoria di una morte il 14 di dicembre 2021 poco dopo subito dopo averla tolta eh sì in che senso la questione dei sacchi aspetta esprimiti meglio che proviamo a ragionarci insieme perché è complicata la cosa dei sacchi allora per il momento la causa di morte è una plastic bag suffocation cioè nel senso una morte che avviene lentamente man mano ti manca l'aria e proprio ti addormenti e ti spegni qualcuno ha risposto diciamo questo è dimmi qualcuno però ci dà l'esperienza ho letto i messaggi in cui qualcuno diceva che ha tolto la fede e gli è rimasto il segnale per un bel po' ecco e io questo non eh Pino Ferrara l'ho scritto me lo sono perso però questa è una testimonianza importante per un bel po' non di pochi giorni ecco qua l'ha scritto qua eh questa è una cosa importante eh infatti è importante perché così se dovesse essere in questo modo abbiamo poi tutti i dati che convergano al 3 gennaio allora ragazzi sicuramente faremo ve lo prometto inviteremo la dottoressa Marica Perli che con cui abbiamo parlato già di questa cosa e lei era molto diciamo incline all'ipotesi del suicidio da prima e abbiamo fatto già una una live con la dottoressa Bruzzone che credo che trovate nel suo canale in cui c'era anche lei e lei comunque spiegava tutte queste diciamo rituali che portano al suicidio a noi sembrano stranissimi però effettivamente ce ne sono veramente tanti quindi fermarsi sui sacchi piuttosto che altro non sposta molto l'attenzione una lettura del mettersi nei sacchi è quello di volersi coprire per evitare che gli animali ti mangi comunque il tuo corpo venga deturpato dagli animali uno si sta ammazzando e pensa una cosa del genere sì anche il fatto di averlo messo in testa insomma di essersi sistemato in questo modo secondo me no io la vedo dal punto di vista che per oscurarsi di più semplicemente no però qualcuno diceva che un dettaglio giusto Hinkuck mi ha fatto morire un bel po' non è un dato scientifico però dal dire mi è durato un mesetto perché Pino diceva di aver avuto un mesetto e c'era anche Patrizia se mi dici più o meno quanto ti è rimasto il segno cominciamo due dati già cominciano ad essere un po' più scientifici rispetto a dire che può durare solo poche ore a che può durare un mesetto un mesetto tre settimane e qualcun altro ha la stessa cosa diventa interessante il fatto perché tutti i dati poi si allineano quindi se qualcuno ha questa esperienza che magari ha tolto la fede iniziale e ci può dare questa testimonianza noi raccogliamo un po' di informazioni diventa un dato scientifico ti convincerò che può diventare scientifico a me no non è successo si toglie subito Patrizia scrive quindi ne abbiamo già qui chi è? il terzo ragazzi io raccolgo dati questa live fatela girare che il dato di persone che trovano la fede ci dicono che dura almeno un mesetto importante perché è una di quelle cose che è stata scritta giù di lì che fa venire magari il video esatto questo è importante io non l'ho mai tenuta quindi insomma c'è qualcuno addirittura quattro mesi è durato quelle simili non è vedi è un'informazione non è un dato ragazzi pensate che non è una cosa molto comune nel senso che ne abbiamo parlato anche con la dottoressa Bruzzone ma anche con altre persone ed effettivamente nessuno ha detto che ci può stare che erano a quattro settimane quindi è un dato importante allora non è proprio una sfissia più la chiamerei tecnicamente ipossia nel senso che ti manca l'ossigeno lentamente perché l'asfissia è un po' più traumatica anche se non te la provoca qualcun altro nel senso avresti avuto dei segni caratteristici dell'asfissia quando ti manca proprio tutto il fiato in unica botta lì è stato uno spegnimento led si chiama proprio il processo di morte plastic bag suffocation cioè soffocamento dalla busta di plastica cioè è proprio caratteristico di quella morte lì è strano a farvi capire però l'asfissia lascia anche dei segni che possono essere che ne so la colorazione il pink teeth si chiamano ti viene una colorazione tipo rosa per i denti perché comunque abbiamo dei capillari all'interno dei vasi e quant'altro viene un tipo di colorazione è stato escluso ovviamente lo strozzamento quello meccano a meccanico quindi l'asfissia meccanica violenta quindi provocata dai terzi con l'accetto e appunto su quell'accetto poi adesso saranno fatti anche dei confronti col DNA ma abbiamo quattro confronti mi pare che siano sempre Sebastiano Serpin Fulvio che è il suo amico e non mi ricordo ma mi pare si chiami Pier Giorgio Vicentin che è il figlio di Sebastiano mi pare che siano quattro cioè quelli che erano stati già attenzionati prima e faranno un confronto su Cordino una parte della porzione del collo della bottiglia insomma che è stato trovato nella borsa di Liliana mi pare di aver capito proprio le mutandine quindi gli slip qualcosa di molto intimo di Liliana e poi faranno un'analisi più dettagliata che poi non è un'analisi un confronto su una traccia molto particolare che è stata trovata sulle buste che che cos'è sarebbe una specie di touch ma da guanto cioè sono riuscite non mi chiedete come non lo so studierò perché mi serve sta cosa dei guanti che sono riuscito a capire che sulla busta c'è un'impronta dei guanti adesso vogliono capire ovviamente se questi guanti sono di quelli che hanno maneggiato il corpo per lavorarci quindi quelli della scena del crimine insomma o qualcun altro quindi viene raffatta anche questa comparazione che è molto molto interessante quindi secondo me per quanto io possa appoggiare per il momento la tesi del suicidio avere delle risposte in più su determinati elementi male non fa perché avere delle risposte in tal senso magari mi convinceranno ancora di più per quella tesi lì e sarò ancora più convinto anche se ve l'ho detto gli elementi che mi tengono su quella pista li sono mancanza di quadri lesivi e intervento di terzi quello è proprio irremovibile poi vi ho detto la cosa se non è del terreno il calpestio del terreno per me veramente è una cosa che a livello logico lì e poi anche il background psicologico che viveva questa signora ce lì ce lo vedo tutto il quadro sì mi leggo un po' di commenti Monica non so se vuoi dire qualcosa eh sì scusatemi mi sono un attimo persa sto leggendo anch'io sì avrebbe potuto ci ha fatto tutto da sola solitamente meccanica è proprio un'ostruzione quando si parla di asfissia meccanica è qualcosa che ostruisce gli orefizi della respirazione quindi il naso e la bocca no? quindi viene proprio ostruito il corpo ne risente in una maniera molto molto forte lo strozzamento poi ancora di più che quando ti stringono no? il cordino il cordino non era stretto da strozzamento però immaginate pian piano nella busta l'ossigeno si esaurisce tu ti spegni ti addormenti quasi e cominci a perdere anche poi il controllo degli atti questo lo spiego sempre ma non ti riesci a liberare no a un certo punto non puoi più anche se il tuo cervello ti dice di volerlo fare non riesci a avere più il controllo della muscolatura ma poi hanno spiegato che lei sarà morta veramente in pochissimo tempo cioè ragazzi non ci sono tracce di farmaci ce ne è senso farmaci dei sedativi l'uniche cose che sono state trovate che dicevano era tipo come una sorta di analgesico simil aspirina simil aspirina ma nulla di di particolare sì sì diciamo che vedremo secondo me sono altre sei mesi di indagini che non porteranno a nulla però sì questo lo mettiamo subito in evidenza io ho letto di gente che si è suscitata in modi più strani addirittura chiudendosi in un camino stufa sì esatto è possibile ma ragazzi io conosco la storia di un ragazzo che si è impiccato ad uno scaldabagno mentre nell'altra stanza c'era la sorella che avrebbe partorito da di lì a pochi giorni e qualcuno si chiede no ma aveva brutti rapporti con la sorella assolutamente no però ecco insomma pensate la sorella incinta che ha partorito due giorni dopo ho visto un caso di uno che ragazzi probabilmente di che cosa si è combinato per uccidersi cioè una cosa atroce avrebbe potuto farlo con un unico colpo netto invece si è combinato un devasto ma anche doloroso per uccidersi e provocarsi tagli in tutti i punti del colpo quindi non esistono delle modalità normali sono tutte singolari sono tutte singolari e non le capiremo mai fino in fondo no no per noi è morta il giorno in cui è stata ritrovata cioè qualche ora prima ribadisco che la scelta qualche giorno prima i sacchetti biodegradabili per farla finita è bizzarra sono delicati con il respiro il vapore acqua e la sediva c'è il rischio che si buchino ma non è immediato però tutta questa storia non è bizzarro nulla cioè comunque però non è immediato il sacchettino con il cordino e poi si è messa l'altro sacchetto sopra quindi insomma però non si biodeagrada in pochi minuti che è quello che poi effettivamente che se un'ora due ore l'ossigeno c'è veramente basta poco per essere usato l'ossigeno non ve li so dire le tempissiche ma non ci arriviamo secondo me ai 30 minuti un'ora quindi non ce la faccio però sai Patrizia non è detto il problema è che noi di questa donna non sappiamo nulla anzi qualcuno aveva detto che dopo la pensione un po' aveva cambiato diciamo le sue le sue abitudini quindi insomma noi non lo sappiamo come stava qualcuno poco fa chiedeva l'autopsia psicologica è difficile ricostruire quello che dice chi era Liliana rispetto a le varie storie che vengono dette da chiunque sicuramente qualcosa si può fare e credo che il quadro che ne viene fuori non è assolutamente quello di una persona felice qualcuno poco fa diceva sì la questione dei soldi aveva adesso sono tornata diciamo in in mi sono rimessa al passo qualcuno poco fa aveva scritto dei soldi mentre noi stavamo parlando di altro del fatto che comunque avevano dei giri insomma spendevano tanto la casa o altro che qualcosa non tornava effettivamente sì però è anche vero che Bisentin lavorava un po' in nero insomma magari non è che per forza dovevano essere entrate illecite ecco lei comunque guadagnava bene lui guadagnava pure quindi magari non è detto poi e su quanto abbiano trovato sui conti correnti che la sua su tfr fosse intatto io sinceramente non l'ho letta questa cosa il tossicologico si è stato fatto non mi ricordo chi l'ha chiesto perché adesso mi sono riaffacciato su twitch non trovo più la domanda lo guardo subito nei 25 punti c'era certamente sui contanti allora sì l'ho trovato c'era scritto su questi contanti c'era scritto su ma ve lo dico proprio come scritta la wfer si è entrata in qualche parte c'è l'ho trovato di questi contanti e la fila non so perché l'ha messa insieme c'è c'è faranno questo approfondimento potrebbe essere ovviamente loro approfondiscono ormai tutto perché anche quello può essere un movente una volta che stanno indagando per l'omicidio volontario vanno approfondi tutti gli aspetti che avevano tralasciato e tutti gli aspetti che poi se ci fate caso sono quelli di cui vi ponevate le domande anche voi che seguite il caso cioè vi siete sempre chiesti ah ma allora è stato congelato è stato scongelato sono cose che vi siete chiesti anche voi non facendo gli inquirenti quindi è affidabile questa consulenza medico legale tendenzialmente può darsi che adesso la facciano che cosa ha fatto la Resinovic con gli account i suoi messaggi poi questa qua le scelle telefoniche di ritrovamento è una questione che non abbiamo mai discusso potrebbe essere interessante potrebbe darci qualche dato sì anche perché non ricordo quando forse la settimana scorsa che stavo vedendo qualcosa di quarto grado non so se poche ore o pochi giorni prima gli amici di di no comunque non c'è non c'è non c'è sui soldi ragazzi no cioè giusto dirlo perché non c'è nessuna indagine nessuna ehm io l'ho trovato in più beh le testate eh forse nei giornali no sulla questione economica il GIP non ha non ha sollevato diciamo questioni su tutte le i dispositivi la GoPro le sim il tablet vari cellulari tutto un sacco di materiale che noi davamo per scontato che fossero state diciamo analizzate questo qua insomma no non è stato fatto ed evidentemente dovrà essere fatto e di verificare da tutti gli account che avesse perché probabilmente va più accanto ai cloud le ricerche su internet che a quanto par diciamo non hanno dato l'esito sperato perché in effetti se voi ricordate c'era stato si era parlato tanto si era parlato tanto di quello che accadeva insomma nella nella loro intimità no mi sono persa ragazzi scusate cosa stavo dicendo che mi sono persa che stavo dicendo perché sì perché se eppure io stavo curioso di seguire qua in chat che cosa era successo no mi continuano a scrivere per questa storia e mi perdo comunque stavo dicendo una cosa importante e me la sono persa ovviamente questo poi lo toglie ragazzi anche se poi ci verranno vediamo me l'aveva sui dispositivi e sui device ah ok l'ho ritrovato il ferro è molto importante ragazzi allora quando si parlava del fatto delle ricerche che avevano confermato le relazioni con Sterpin almeno Sterpin l'ho detto giusto sì e sul fatto che cercasse casa no queste famose consulenze informatiche in verità queste consulenze informatiche non hanno del tutto chiarito questi aspetti nel senso che i contatti c'erano i contatti c'erano no ho un disturbo ADHD io ragazzi quindi non è la vecchiaia è un disturbo dell'attenzione quindi insomma se non sto concentrata mi perdo comunque la vecchiaia è anche quella ragazzi e c'era insomma c'erano queste ricerche per la casa che in effetti Liliana aveva fatto anche prima dei del momento in cui aveva cominciato a frequentare Vicentin quindi effettivamente il fatto che loro volessero cambiare casa insieme non è una bugia di Sterpin quindi le ricerche fatte su quell'account che hanno verificato non hanno confermato nulla perché effettivamente sì è vero che nel momento in cui c'è Sterpin Vicentin cominciano a cominciano a fare ricerche molto più approfondite però è pur vero che non cerco una casa per lei da sola perché non cerca una casa piccola e lei comunque poteva andare da Vicentin quindi semmai se cercava una casa insomma poteva anche essere che la cercasse veramente per lei e per il marito e poi per tutta questa storia dei contatti con Vicentin non ci sono i contenuti se non qualcosa che aveva mostrato lei ed è la ricerca su come divorziare c'è solo un'unica ricerca e ragazzi al di là del fatto che possa averlo fatto sul serio perché voleva divorziare col marito però che suo marito fosse un pesante che lei ogni tanto magari potesse pensare ma sai che c'è lo manda fanculo e magari cercava ragazzi se domani mi capita qualcosa e vanno a vedere tutte le ricerche che io faccio sul cellulare cercheranno cioè chiudono sapete che fanno chiudono il cellulare e dicono senta signora vada diranno a mia mamma a mio figlio andate a cercarvelo voi che le è successo perché non sappiamo da che parte prendere e ragazzi non è detto cioè ognuno può cercare ma voi voi non ci pensate esatto manca soltanto la seduta spiritica con le dichiarazioni una diretta interessata ne hanno dette veramente di ogni però questa diciamo voi ridete ma è vero non pensate a quante cose strane potete cercare voi ogni tanto cioè non c'è stata una ricerca in maniera assidua del fatto che volesse lasciarlo cioè non è che cercava una cosa e ne riapriva un'altra non è stata una ricerca su vari siti sul tema cioè uno scrive su google una volta come si divorzia che ragazzi paradossalmente può anche essere una conversazione perché il divorzio è cambiato quindi magari tu parli con un'amica e ti dice no ma sai adesso ho divorziato in sei mesi cioè magari dici come adesso si divorzia in sei mesi io lo cerco per vedere se quella mi ha detto una fesseria cioè da qui a dire voglio divorziare ecco brava Cristina anche noi come se vengono sui vostri compi allora quanti ne siete adesso più o meno vi do un 160 sicuramente 50 esatto tra l'altro lei ricerca come congelare un cadavere segni di congelamento sul cadavere immaginate che ricerca inquietante no? perché ne abbiamo parlato magari la vostra cronologia appare una roba del genere ma non l'avete fatto perché no no Frelli la tua domanda è corretta così non lo puoi fare se hai solo quello perché ripeto l'ha cercato una volta sola ed era così grazie Patrizia Caselli che me l'hai cioè come divorziare senza avvocato cioè per arrivare a fare un profilo vittimologico adesso ve lo dirà diciamo Giovanni che ha finito è più diciamo ferrato sull'argomento ci sono tutta una serie di circostanze cioè non basta che tu una volta scrivi una cosa cioè magari anche altri argomenti inerenti alla separazione che ne so cerchi una volta come separare una volta gli alimenti c'è tutta una serie di cose che tu dici sai forse questa intenzione c'è ma sulla base di una sola ricerca fatta così non è possibile so che Frelli me l'hai domandato perché te lo sei chiesto sul serio e poi anche poi ricostruire il profilo della vittima è sempre quello di cui parlavamo prima l'autopsia psicologica ma quella come si fa si fa di cose lasciate dalla vittima quindi magari diari segreti lettere conversazioni con gli amici molto intime e dalle testimonianze di amici e parenti ma avete visto stiamo parlando di Visentin e Serpin le loro dichiarazioni le prendere con le pinze perché sono strane c'è un voglio di che mentono ma ci sono cose che non tornano se si dobbia fare una ricostruzione sull'Iliano sulle testimonianze di quelle che erano le persone vicine esatto no questo diario nascosto di Liliana non c'è perché non è mai sarebbe uscito sicuramente ci avrebbe detto tanto di lei quindi sicuro vi dico che non c'è sarebbe venuto fuori se non c'erano la telenovelas sul caso però ecco magari hanno cercato l'account sbagliato cioè magari era l'account sbagliato perché adesso hanno chiesto di verificare altri account e quindi magari faceva altro cercava altro in altri account a me sembra strano perché non credo che io scriva da tanti account però è anche vero che magari con anzi no ma lei aveva un ID Apple quindi l'iCloud è quello non credo che ne potessero tanti però insomma cioè devi ingegnare un po' lo sai che c'è un mio amico che ha fatto una tesi no sulla diciamo la chiamata la psicoinformatica c'è lui dice che noi siamo il nostro computer nel senso che tutto quello che archiviamo nel computer il modo anche in cui archiviamo le ricerche che facciamo le fotografie che ci siamo conservati come l'abbiamo suddivise tutto è uno specchio di noi e quindi riusci a dimostrare che lui ti riesce a conoscere se sei una persona che ovviamente utilizza il computer o al massimo il cellulare ma come questi dispositivi possano dire tanto di noi delle nostre abitudini anche dei nostri pensieri perché è quasi intimo il rapporto che c'è nella ricerca perché tu la fai poi dici vabbè dopo la cancello non la trovo però metti caso che ti accada ecco qualcosa e non riesci a cancellare la tua cronologia scomoda se sta da mai letta è un'informazione su di te perché è come cioè parliamoci chiaro voi mica quando fate una ricerca che magari non chiedete a qualcuno perché può essere un argomento imbarazzante qualsiasi eh vi dico lo fate quasi come i latri nel senso ah così chiedete questa cosa poi dopo magari si gallencella è così perché sono ricerche strane ve lo dico sempre faccio sempre la mia battuta che il mio computer è inquietante per quello che devo cercare per forza di cose però si possono fare anche delle domande stupide tipo anche quelle dal cioè per dire posso uscire incinta con un bacio o una cosa del genere si fanno le ricerche quello può dire tanto di noi ma come diceva Monica non basta un solo elemento però se io faccio le ricerche del divorzio senza avvocante devo cercare l'appartamento a poco prezzo perché ci devo sbattere mio marito poi dentro una serie di circostanze posso dedurre e andare a delineare un'intenzionalità che poi diventa un dato di fatto no chi è che poi ci dice che sia effettivo Serpino però adesso Liliana non c'è più per dirci che quello che ci racconta lui è vero no leggevo qualche giorno fa addirittura si parla di una relazione di cioè è cominciata a vent'anni se ti fai due conti avevano vent'anni questi due ma adesso c'è solo lui a raccontarcela mi hai fatto morire palle woman chiedo scusa allo psicoinformatico che dovrà essere vissi un motore di foto del gatto mi hai fatto morire allora c'è qui Alexandra Bong che ci c'è ma è il marito che mette le mani nel telefono di Lilli cancella numeri risponde alle chiamate non c'era un pin lui lo conosceva ricordiamo quelli lì aveva espresso la necessità di andare al negozio di telefoni una mattina scomparsa che cosa voleva chiedere sembra la verità che sembrasse un cioè che fosse diciamo un diversivo per prendere tempo però allora ragazzi il fatto che lei possa essere diciamo si possa essere suicidata effettivamente non è che vuol dire che qui tutti hanno detto le cose corrette o che nessuno abbia mentito cioè io che ci sia qualcosa di non detta da entrambe diciamo i due contendenti io lo credo perché non credo che lei la mattina si sia svegliata e così se ne sia andata per i fatti suoi quindi che comunque ci siano altre storie in mezzo sì però il dato scientifico ci dice che lei è morta per una morte diciamo di per una per una eh attacco cardiaco come si chiama nello specifico non mi ricordo dovuta all'asfissia quindi comunque morte violenta non ce ne stava diciamo non è che attacco cardiaco attacco di cuore cioè a me il cuore ha smesso poi di funzionare perché si è avuto diciamo scompeggio cardiaco non mi veniva la parola grazie che poi mi prendono in giro però non mi veniva quindi dico non c'è una morte violenta e quindi per quello escludiamo l'omicidio non perché insomma non ci sia niente di strano in questa storia quindi insomma acuto ecco no non aveva nessuno ragazzi non aveva amiche cioè chiacchierava cioè ma non è non dipendeva era lei che aveva un carattere molto introverso in questo eh sì è quello quello è la cosa che molti di noi non tutti hanno notato nell'immediato per questo si sono più avvicinati all'ipotesi suicidaria perché comunque effettivamente quello che abbiamo visto ci ha fatto capire che sta donna tutto sembrava ma non una donna con una vita felice quindi un altro poi Sterpin dice che si sono amati dalla culla peccato che entrambi si siano sposati con altre persone sul volo sui pietosi piedattali in cantina no ma tra l'altro Guglielmo è ancora peggio perché c'è stato un momento ancora prima di Sterpin che Vicentin aveva lasciato una vecchia fidanzata qualcosa del genere loro avevano avuto una piccola un riavvicinamento però poi lui la lascia e si piglia la moglie che poi è morta quindi insomma non è che si erano amati l'aveva anche un po' sfanculata per un certo periodo della sua vita quindi insomma non è che è stato ragazzi terribile ragazzi stavano un'occhiata poi in giro su Twitch e lui diceva ma dove sta per 20 giorni eh dove è stata per 20 giorni ragazzi quello è il punto se tu sei adulto e te ne vai per 20 giorni e non ti è successo niente di male quindi non ti hanno sequestrato non c'è neanche l'idea diciamo dell'istigazione al suicidio perché non c'è nulla quindi sarebbe troppo campata in aria non si indaga per sapere dove è stata 20 giorni per quello poi si indaga per capire le cause della morte cioè l'epoca della morte perché se anche il PM fosse riuscito a sciogliere questo nodo perché comunque il PM fa una richiesta di archiviazione un po' aperta perché effettivamente dice che le risultanze diciamo quelle fattuali del momento ti portano a una morte che dovrebbe essere avvenuta il 5 quando è sparita no e anzi il 14 il dato invece scientifico ti dice che è morta il 5 il PM ha deposto le armi ha detto io non lo so quando è morta fondamentalmente e questo è stato il là alla procura al giudice per dire continuate le indagini però che questa cosa venga accertata tra sei mesi io non credo proprio giusto che ci siamo visto che le indagini bisogna farle accertiamo e cerchiamo di capire che altro può essere successo però se ci fosse stato un dato certo sull'epoca della morte non credo che avremmo avuto una una un proseguo delle indagini non so se Guiglielma è d'accordo con me però insomma questo è stato il motivo scatenante ed è comprensibile perché effettivamente diciamo è un po' strano è un unicum però ragazzi non è detto che resterà tale perché insomma qual è secondo te il dato no Guiglielma la soluzione sulla sulla data della morte qual è l'errore che non che non è stato evidenziato cosa cosa pensi questo non mi è chiaro che si sia suicidata sì ma quando non lo so è un casino questo caso ve lo sto dicendo da sì anni a me hanno dato a me io non salvo nessuno a me hanno dato tutti brutte impressioni quindi insomma diciamo che non di questo è rimasto appeso come quel caso vi ricordate anche di quella signora un po' anziana la postina che diceva quel caso non si risolverà ancora non si è risolto quel caso Zia Ulli ha detto una cosa importante io continuo a avere dubbi sui famosi luoghi di incontro lei andava a casa sua lui viveva solo non sono due ragazzini da baciarsi nei vicoli e manco da prendere diciamo altri altri luoghi è un po' strana questa cosa effettivamente non lo so se questo caso verrà proposto all'abilitazione di criminologo insomma no forse è un caso simile ma non c'è esame di abilitazione per fare criminologia Michele brava Patrizia uno si preoccupa troppo presto e l'altro troppo tardi però su quello che si preoccupa troppo tardi posso anche pensare che magari avevano litigato aveva pensato che effettivamente lei si erano girate un po' e magari sarebbe tornata prima o poi l'altro che si preoccupa troppo presto io un motivo non ce lo vedo ecco no credo che adesso la procura voglia accertare che non sia stata in uno di quei luoghi sì questo sì però dove ha passato questi giorni c'è andata da sola cioè secondo te è morto è morto appunto il 5 gennaio ecco tutti quanti pure io sono su questa domanda qui eh sì ma è quella anche tu e Laura veramente devono dimostrare che è stata congelata altrimenti non c'è una spiegazione altrimenti è morto il 3 gennaio stop però ragazzi non so voi cioè proprio non so voi però se venite a casa mia e state 20 giorni chiusi da soli cioè una persona sola per 20 giorni mangiate ve lo dico non so le abitudini di altre persone però certo magari non i pranzoni o cose però una persona da sola che non mangia tanto a casa mia per 20 giorni mangia senza fare la spesa eccoci dai solo il panetto no dovete essere da soli perché se già siamo tanti no però una persona sola per 20 giorni c'era sempre il panettone quella mattina si c'era il panettone però anche lì ragazzi a seconda se voi andate magari non solo dalle vostre parti ma dalle mie parti ci sono persone che per lavoro hanno tanti contatti e ricevono un panettone da da tutti da tutti i clienti no quindi magari si ritrovano in casa sotto Natale che hanno 20 panettoni sì cioè non so dalle vostre parti se non si usano però dico sì è vero cioè e nonno da sola 10 persone fai colazione fino a Pasqua e poi cambi con la Colombo e poi arrivano le Colombo sì poi lei dice ci sono luoghi discreti come commenti e cose del genere magari ti accolgono senza conoscerti e io in quello sono d'accordo con Guglielmo però ragazzi integratori potrebbero anche averceli in borsa cioè non è che per forza insomma perché noi effettivamente cosa si sia portato non lo sapevo no ragazzi io no però vi dico che che ne ho viste di queste cose noi a casa siamo in tanti quindi insomma siamo vecchio stampo insomma facciamo una spesa e aspettiamo chissà mai cresciuti con i nonni sai i nonni ha paura della guerra quindi si mette sempre tanta roba in casa che non scade ovviamente era appena instaurato Enrico ragazzi cioè nel senso la fase di risoluzione quindi vuol dire che si era instaurato e poi quello al contrario si risolve nel senso che ti quindi è nell'arco delle 60 ore cioè Rigor ci dice che era nelle 60 ore ma noi non lo sappiamo se lei da quella mattina che è stata ripresa dalle telecamere è poi tornata a casa si è presa qualcosa cioè noi tutte queste cose noi non le sappiamo cioè l'unico che ci ha detto come vestito ce l'ha detto lui potrebbe anche essere tornata a casa a prendersi le sue cose cioè lui se ne accorge a mezzogiorno alle due insomma quando riceve le chiamate quando si ritira a casa lei è uscita la mattina alle 8 8 e un quarto cos'era le 9 cioè noi non lo sappiamo se poi tornate in testa a prendere le cose a casa oppure magari si è spostata da qualche parte dove ha avuto tutto quello di cui aveva bisogno cioè ci sono varie spiegazioni a questa però non poteva essere molto lontana perché lei lì è arrivata da sola e a piedi ma tu ti riferisci però se è rientrata nella stessa mattinata della scomparsa però intendi si potrebbe anche essere o in giorni successivi in giorni successivi sicuro no a parte che aveva dei sacchetti quando l'hanno vista non sappiamo il contenuto forse i sacchetti però la spazzatura forse l'hanno vista sì comunque noi leggiamo in giro no dalla scomparsa della sera quando viene denunciata lei sicuramente in giro non l'ha vista più nessuno però non era lontano era lì vicino che elementi sono stati acquisiti durante il ritrovamento in che senso Patrizia si più specifica cioè come oggetti intendi la bussa il cordino gli indumenti la bottiglia la borsa questi qua sono emersi per il momento c'è e attenzionati sì no ma adesso io sono curioso di capire quelle chiavi cosa te ne fai di chiavi che aprono cosa cioè comunque sono delle chiavi pur che magari possono aprire un cancelletto una porta cioè perché hai delle chiavi e tuo marito non sa che cosa sono quelle chiavi non so se capite cosa voglio dire cioè se potenzialmente io condivido una casa con una persona e lo faccio anche per tantissimi anni vedo una chiave e dico ah questa sarà la chiave del che ne so la cantina piuttosto che il box da qualche altra parte più o meno ho un'idea di che cosa possa essere sì e no però da quel che ho capito non sono chiavi tipo di una porta tipo blindata sono come delle chiavi più blande tipo da cancelletto almeno così le hanno descritte nella trasmissione l'altra sera cioè non sono delle chiavi tipo da porta proprio magari possono tipo una porticina un po' più blanda no non c'era un'impronta di Lily c'era un'impronta però uno dei degli accertamenti che deve essere fatto è proprio vedere se quell'impronta può essere delle persone che l'hanno soccorsa ecco non è una serratura da porta vedremo comunque siamo ritornati noi al vedremo allora questa relazione con Claudio allora che loro si sentissero si vedessero anche con una certa insistenza sì una relazione diciamo di che tipo non lo so però c'era che però lui lei volesse lasciare il marito tutte queste cose qua sono solo state dette da lui e non sappiamo effettivamente se se corrispondono al vero ecco vabbè ma adesso mi pare di aver capito che sia adesso vedranno tutti i messaggi le cose che si sono scritte o no il marito non nega questo il marito nega la parte la seconda parte cioè il marito la prende alla leggera della serie si si sentiva erano amici si vedevano da una vita io non sono neanche geloso ma che lei mi volesse lasciare per andarsene con lui non è vero quindi lui nega la parte in cui effettivamente nessuno può dire che sia così perché ripeto le ricerche sul computer rispetto alla casa o altro non bastano evidenziare che lei avesse questo progetto di vita anzi c'è da dire che lei non l'aveva detto assolutamente a nessuno che mi sembra un po' strano esatto a quell'età mi sembra anche un po' strano sì lei diceva che andava a stirare le camicie nel senso che non ci credeva ragazzi se tua moglie è morta e qualcuno viene e ti dice no ma sai ti stava lasciando perché se vuole andare con un altro moglie o marito che sia sarebbe strano che ci credesse ecco sì questo concordo c'è di tutto di più sì potrebbe negare per ego potrebbe negare anche perché non non io ferrara grazie e perché comunque è pieno di suo ma può anche essere per la memoria lui l'ha detto tante volte però cioè visentino ha detto sterpino ha detto delle cose vabbè Claudio ha detto delle cose per cui Sebastiano ha sempre detto proprio chiaramente senza vergogno senza diciamo timore vergognati in televisione e non ci ha torto perché si è lasciato a dei commenti che si poteva evitare quindi comunque magari al di là di negare per il suo anè ego che sicuramente c'è perché insomma lui è abbastanza tratti abbastanza da narciso ecco per non usare un termine che non mi compete però è anche vero che potrebbe in subordine cercare di tutelare la memoria di sua moglie che non è sbagliato ragazzi perché effettivamente è la sauna si sedeve in braccio io poi non lo condanno lui l'ho scritto sul gruppo l'altra volta per me il problema sono tutti quelli che l'hanno fatto parlare così perché ragazzi ora io non voglio dire puoi anche essere lucido perché lui lo è però a una certa età non c'è più i freni inibitori dici le cose come ti passano per la testa e quello è un dato certo sì ci sono anziani che non sono così ma la maggior parte superati gli 80 anni lo sono quindi il fatto che lui dica determinate cose senza neanche pensarci ma la colpa è di chi le fa anche dire in televisione secondo me sì vabbè ragazzi che ha bloccato il numero di telefono se tu non sai usare tanto il telefono e questo continua a chiamare l'avrei bloccato pure io e la prostata che lui aveva l'intervento ah sì che ha parlato pure dei problemi alla prostata sì scusa ha detto delle cose indecenti quindi capisco che è anche l'età secondo me no del corpo congelato sì è stato lui il primo è stato anche lui il primo a darsi da fare per la scomparsa sì tra l'altro lui e Covalero erano amici cercavano insieme ora a quanto pare si danno diciamo ho visto Covalero seduto accanto al marito andare contro al fidanzato insomma è un triangolo questo qui non è proprio un gioco a due dei sacchi neri è stato Covalero non credo che sia stato Covalero sì ho sentito lui che aveva detto che era questa cosa del sacco nero però Anto Abel quando lui chiama lo blocca prima cioè è questo quello che secondo me in cui lui ha mentito il fatto che abbia detto che era tutto a posto perché la verità è che secondo me una litigata c'è stata perché se no tu il fatto che tu blocchi è perché magari non sei preoccupato in quel momento però non lo sappiamo sì Covalero cioè Rubberink non lo sa allora Covalero è un amico di Liliana che si è comportato in maniera un po' particolare in questa storia ha lanciato dei messaggi su Facebook ha detto che erano carissimi amici poi qualcuno ha detto che non era vero ha detto che l'avrebbero ritrovata nei sacchi neri insomma è stato un po' veggente andava a cercarla nei boschi da solo la sera insomma sì vatti a ricercare qualcosa perché è interessante da sentire diciamo se ti piace il caso devi capire i personaggi della storia sì c'era qualcuno che diceva la morte di Lily porta vantaggio solo al marito perché un divorzio l'avrebbe lasciato economicamente nella miseria il problema è che ci doveva arrivare al divorzio cioè c'erano anche allora lui dice che dovevano passare un weekend cioè lei non se ne stava andando per non tornare più quindi per arrivare a una cosa del genere doveva esserci il momento cioè lui ha quella superiorità Sebastiano che parla di Liliana come se Liliana non avesse il potere decisionale quindi quello non ci credeva se quella che quel giorno gli avessi detto guarda che io divorzio ma lui non ci avrebbe manco creduto quindi per me lui la preoccupazione della economica non ce l'aveva proprio quindi per quello dico che sì è vero che avrebbe portato a lui un vantaggio però non credo che questa sia la chiave di lettura perché lui minimizza perché effettivamente era convinto che Liliana senza di lui non poteva starci e secondo me aveva anche motivo di crederlo perché era questa coppia in cui lei lo subiva lui insomma faceva quello che gli pareva bene però sono andati avanti una vita così e ripeto dall'altra parte non ha avuto il fulmine a ciel sereno cioè nel senso c'era quest'uomo per cui tu sei sempre andata diciamo ha avuto sempre un debole che però ti ha preso e ti ha lasciato adesso viene e ti dice belle parole d'amore però ragazzi stiamo parlando di persone anziane anche un minimo di amor proprio e dire ma fino a che eri bello e l'arsillo avevi la moglie e la fidanzata e tutt'altro e mo che adesso sei in dirittura d'arrivo venga a fare l'abbadante non lo so scusate se parli in questi termini però io non ci credo che lei volesse lasciarlo per andare per andare da altre parti poi ragazzi comunque diciamo una cosa Sebastiano non poteva andare a lavorare cioè una persona anziana ha una pensione loro erano legalmente sposati se lei aveva una pensione più alta a Sebastiano poteva toccare comunque il mantenimento cioè attenzione o comunque la pensione la potevano aumentare insomma cioè non è che diceva ciao ci siamo visti non funziona così sì concordo poi c'è qualcuno che dice Sebastiano regalava le cose pochi giorni dopo la sparizione e beh pochi giorni dopo la sparizione l'ha già spuntato Claudio io vorrei vedere voi cosa fai piangi mentre tutta Italia sa che tua moglie aveva un amante insomma quindi insomma esatto infatti io questo se mi avesse detto che voleva lasciare da solo bene ma che si andava a prendere a questo qua insomma no ragazzi Claudio compare subito cioè Claudio nella scena compare subito 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 compare perché lo sa perché lo sa Sebastiano cioè glielo dicono quello è andato dai carabinieri cioè non è che Claudio va a fare la denuncia pure lui insomma va a casa ci manda degli amici quindi insomma non è che ci fosse altro va bene va bene ragazzi diciamo che ne abbiamo parlato e ci dobbiamo tornare che adesso ho gli orecchi sviluppi ci torneremo ci torneremo anche per parlare dell'ipotesi del suicidio vediamo invitiamo la dottoressa Perli buongiorno di questi e ne parliamo di nuovo tanto per questa storia insomma grazie della compagnia ciao pensate un pochino grazie per essere tornata e sì comunque un pensiero a Liliana sì perché questa storia è veramente molto triste e se veramente è morta come noi pensiamo no che dopo tutto questo aver visto tutta questa storia è andata lì e si è suicidata mette ancora più in tristezza grazie a tutti voi ragazzi per essere stati qui numerosi fino alla fine grazie a presto ciao buonanotte ciao